Chi ha rapito mia figlia sapeva esattamente chi fosse Denise e conosceva la sua storia. Sono vent'anni di dolore e lotta incessante. Non troverò mai pace finché non sarà chiaro cosa è realmente accaduto. Così Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa il primo settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, ha dichiarato nel giorno del triste anniversario. In occasione di questo doloroso ricordo, la madre ha rinnovato il suo appello per la giustizia. Ha aggiunto, oggi chiedo che si esaminino di nuovo i faldoni. Non è plausibile che un estraneo dai luoghi più remoti sia venuto a rapire mia figlia. Se ci fossero state altre piste, le avremmo seguite. Ma dopo tre anni di processi e una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, mi trovo bloccata. Avrei altro da dire, ma è giusto fermarsi qui. La mente torna inevitabilmente a quel tragico giorno. Piera Maggio non era presente quando Denise stava giocando con il cuginetto fuori dalla casa della nonna. Alle 11 e 45, la zia Giacoma vide Denise per l'ultima volta. Poco dopo, chiamò il figlio per rientrare. Altre due cugine arrivarono, ma non videro la bambina. Iniziarono a cercarla intorno alla casa e a chiedere informazioni, senza successo. Verso le 12 e 15, Tony Pipitone, all'epoca marito di Piera e padre adottivo di Denise, rientrò dal lavoro. L'uomo, convinto che Denise fosse sua figlia, si unì immediatamente alle ricerche. Alle 12 e 30 circa, lanciamo il primo allarme, ha raccontato Pipitone. La madre, avvertita, tornò a casa disperata e le televisioni locali iniziarono a trasmettere l'appello disperato della donna. Una settimana dopo, gli investigatori si presentarono per i rilievi. Questo sviluppo portò l'indagine a concentrarsi sulla famiglia di Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise. Jessica Pulizzi, all'epoca diciassettenne e maggiore delle due figlie di Pietro, con l'allora moglie Anna Corona, fu accusata di sequestro. Anche Anna Corona fu indagata. Si ipotizzava che il rapimento potesse essere legato alle complesse dinamiche familiari e alla gelosia di Jessica nei confronti di Piera. Secondo gli inquirenti, Jessica vedeva nella madre di Denise la causa del fallimento del matrimonio dei suoi genitori. La sua ostilità non era nascosta. Aveva dimostrato il suo risentimento con insulti pubblici e pedinamenti. Aveva persino tagliato le gomme dell'auto di Piera, ammettendo poi, non mi era simpatica. Jessica spiegò che la sua avversione derivava dal fatto che il padre aveva comprato dei vestiti per Piera, ma non per lei. Inoltre, ci sono state delle dichiarazioni ambigue fatte da Jessica in dialetto durante un interrogatorio con la madre. «Quando ero con Alice, pigliai e a casa ci ha portà», che si traduce in «Quando ero con Alice, sua sorella minore, ho presa e l'ho portata a casa». Molti interpretano questa frase come una confessione, mentre altri ritengono che la traduzione possa essere stata errata. Nel corso degli anni sono state seguite diverse piste, tutte collegate in qualche modo alla famiglia. Una di queste era la cosiddetta «pista Rom». Pierre Amaggio ha spiegato «Abbiamo indicato questa pista noi stessi, ma è importante chiarire che non abbiamo mai affermato che i Rom siano stati i responsabili del rapimento di Denise. Piuttosto, abbiamo suggerito che potesse esserci stata una connessione successiva al rapimento, basandoci su alcune amicizie legate ai nostri sospetti. Ricordiamo che non siamo stati noi a portare Jessica Pulizzi a processo. Sono stati i magistrati a ritenere che ci fossero elementi che meritavano di essere esaminati in aula. Nonostante vent'anni di battaglie, nessuno è stato condannato. Jessica Pulizzi è stata assolta per «povertà del quadro probatorio». Come hanno scritto i giudici, nonostante vi fosse un valido movente, anche Anna Corona e Alice Pulizzi sono state escluse dall'inchiesta. La scomparsa di Denise rimane un mistero, ma i familiari non si sono arresi. Tony Pipitone ha formato una squadra di esperti e ha presentato nuove prove alla procura. Chiedendo la riapertura del caso. Ha dichiarato «Ci sono persone che non hanno detto tutto e situazioni che devono essere chiarite. Alcuni non possono essere stati nello stesso posto contemporaneamente, come dimostrano le carte. Mi rivolgo a tutti voi. Mettetevi una mano sulla coscienza. C'è ancora tempo per dire qualcosa. I bambini non devono essere toccati. Chi ha commesso questo atto ignobile deve pagare. Non cerco vendetta, solo verità. Chi ha partecipato, chi ha visto, chissà, ammorbidite il vostro cuore». La famiglia continua a sperare che Denise sia viva e si augura che qualche dettaglio possa portare a una svolta.